Dopo le polemiche per lo slittamento della data, sono partiti finalmente questa mattina in Campania i saldi di inizio anno. Un po' a rilento nei negozi della città capoluogo, complici anche il freddo e la pioggia, un po' meglio nelle altre province della regione, dove gli outlet sono stati presi d'assalto, grazie anche alle strategie di promozione sui prezzi, prima dell'inizio effettivo dei saldi attuate da alcuni commercianti, per esempio del cilento outlet di Eboli, in provincia di Salerno. Fino a ieri eravamo in promozione, abbiamo offerto al nostro pubblico, ai nostri clienti fidelizzati, una percentuale dal 30% dal prezzo outlet, questo più o meno subito dopo le festività natalizzanti, forse un pochino prima, proprio per dare l'opportunità al cliente di prendere e di reperire il prodotto necessario, il capo giusto e di trovare anche la taglia in un griodo di non saldo. Ci siamo potuti organizzare in tempo per mettere tutta la nostra situazione nel miglior modo possibile per i clienti, mi sta bene, sono contento del fatto che capita anche a cavallo con la Befana. Quest'anno parte il 5, ma a noi non ci ha spostato nulla se non qualche differenza sul fatturato storico. Poche file invece nella città di Napoli, dove in settimana era stata registrata una polemica delle associazioni di categoria a causa della partenza con ritardo. In pochi hanno sfidato pioggia e freddo per fare acquisti, sempre però con un occhio ad eventuali truffe. Tipo mettono l'etichetta rossa sui prezzi che in realtà già ci stavano prima, quindi alla fine non è nessun sconto. Innanzitutto guardare quelli che avevo già guardato, avevo fatto un po' di ricerche prima, e poi guardare il prezzo iniziale e la percentuale di sconto, cioè se è il prezzo originale. Alcuni negozi aumentano i prezzi, fanno dei finti saldi. Ci faccio una buona ricerca, diciamo, tendono ad andare in più negozi e poi vedere qual è il prezzo migliore. Hai controllato anche prima che mettessero i saldi? Certo, certo. Vabbè, vado su internet, cerco le scarpe che voglio prendere e poi scendo e vedo i prezzi. Come sono questi saldi? Buoni? Benissimo, si risparmia un casino. Ah, lei non è di Napoli? No, Genova. E' venuto apposta qua a fare i saldi? Ma anche l'uno e l'altro, diciamo tutti e due. Grazie a tutti.